Dobbiamo cominciare perché mi dicono che abbiamo più di 1500 persone collegate in streaming che si stanno lamentando per i tempi di attesa. Quindi io mi scuso con loro da qui per questa diluizione, infatti non è un microfono, è soltanto per il collegamento in streaming. Io cercherò di urlare perché così riuscite a sentirmi. Ecco, quindi mi scuso, dicevo prima, per il ritardo. Il pubblico che ci segue è numerosissimo, quindi cercheremo di recuperare. Grazie intanto per avermi dato questa opportunità. Sono Novella Cappelletti, dirigo la rivista Paisage. Mi è stato chiesto di partecipare a questa tavola rotonda con un tema importantissimo per noi, verde urbano e paesaggio, che è esattamente il tema di cui ci occupiamo. Prima di chiedere a tutti di entrare nell'argomento, io lancio qualche provocazione, così, libera e credo che poi ciascuno per la propria competenza, spero, mi auguro che la raccoglierà. La prima è che, pensate, il paradosso vuole. Abbiamo insegnato al mondo, dico al mondo, a costruire i giardini. Tutto il mondo viene in Italia per vedere i nostri giardini. Tutte le facoltà di architettura all'estero studiano il giardino italiano e noi ce ne siamo dimenticati. E quindi oggi ci interroghiamo su una qualità del verde urbano che non c'è. Questo è un po' uno. Due, l'Italia, così come altri paesi d'Europa, così come altre regioni d'Italia, così come altri comuni italiani, hanno sottoscritto la Convenzione Europea del Paesaggio. Un documento che da solo basterebbe a darci una linea guida fondamentale su quello che è l'interpretazione oggi di questo bene così prezioso che non ha avuto, oggi la Convenzione recentemente ha festeggiato, se non erro i 15 anni, ecco, che non ha di fatto avuto pressoché nessuna ricaduta al di là di una serie importante di promesse. Quindi voglio solo dire questo. Aggiungo anche che sul verde urbano e paesaggio, sì, in realtà oggi si vive un sistema di conflitti. C'è poco da fare. Credo che sia l'area dell'architettura più conflittuale per definizione. Si giocano gli interessi di chi vuole costruire, si gioca gli interessi di chi vuole utilizzarlo per altri spazi, si gioca l'interesse di chi lo rivendica giustamente come spazio pubblico. E qui faccio un'altra riflessione. Che la crisi ha aperto nuove prospettive, cioè lo spazio pubblico è diventato un bene prezioso, un bene su cui, diciamo, come dire, uno sguardo più attento di rivendicazione anche democratica dello spazio pubblico. Faccio un esempio tra i tanti. Perché pagare una palestra se nel parco posso fare ginnastica? Perché devo sostenere delle spese in più quando nel parco posso trovare le risposte a delle mie esigenze? E quindi da qui derivano poi una lettura dello spazio pubblico come contenitore di funzioni. Questo naturalmente dopo che abbiamo stabilito quali sono le funzioni fondamentali del verde urbano. E qui mi taccio ma ve le leggo proprio così non mi sbaglio. Allora, il verde urbano ha una funzione ecologico-ambientale, questo non lo commento. Ha una funzione sanitaria, ha una funzione protettiva, perché ovviamente protegge dal degrado. Ha una funzione sociale e ricreativa, ha una funzione igienico-sanitaria, una funzione culturale e didattica, una funzione estetico-architettonica. E con questo direi chiudo e passo inizialmente al dottor Benanti, che è il presidente dei periti agrali laureati, per uno scambio di questo tavolo. Grazie a tutti. Vi porto i saluti della mia categoria professionale, che insieme alle altre che sono state coinvolte questo pomeriggio e in questi giorni agli stati generali del verde urbano cercano di dare il loro contributo a migliorare e in qualche modo a entrare nel vivo e nel pratico di questa attività che ci riguarda. Dal punto di vista storico, al di là delle cose che abbiamo sentito prima, nella prima parte del pomeriggio, io devo semplicemente ricordare che i periti agrali laureati sono impegnati da molti anni. La nostra categoria professionale, che nasce nel 1929, ha prodotto e messo a disposizione della società grandissime figure che in qualche modo si sono occupate del verde pubblico. Uno dei padri dell'architettura e del paesaggio italiano era un peritogrario ed era porcinai. Comunque al di là di queste figure di spicco ce ne sono moltissime altre che in qualche modo ancora oggi contribuiscono a mantenere e a migliorare questo bene che è un bene che è diventato un bene assolutamente prezioso e indispensabile. Le cose che volevo in qualche modo ricordare alla platea che ci sta ascoltando sono legate al ruolo delle nostre professioni. Prima abbiamo sentito che storicamente ci sono state una serie di evoluzioni che hanno in qualche modo portato ad una maggior attenzione del verde e qui ovviamente la nostra presenza come categoria professionale è una presenza fondamentalmente improntata agli aspetti pratici, alla gestione pratica di quelle che sono le attività che in campagna, quando dico campagna intendo il mondo che sia sia rurale che urbano che ormai è senza soluzioni di continuità. Cioè ormai credo che sia già stato detto da altri relatori ma credo che non sia più in discussione il fatto che non esiste più un territorio diviso e che in qualche modo è parzializzato rispetto all'esigenza di essere in qualche modo posto sotto attenzione da questo punto di vista. Quindi dicevo come il primo giro di tavolo che mi può riguardare può essere quello di mettere a disposizione le esperienze dei peritegrari italiani che in questi anni al di là della presenza sia nell'ambito privato che nell'ambito pubblico hanno in qualche modo rappresentato un'attività che è stata, che è legata al mantenimento e alla gestione del verde di moltissime città italiane. Noi abbiamo, vi ricordo che io direttamente ho partecipato al primo censimento del verde della città di Torino che è stata forse una delle prime più grandi città italiane che ha iniziato a conoscere il proprio verde. Da lì poi sono partite una serie di iniziative che si sono diffuse su tutto il territorio italiano e che hanno portato a un livello di conoscenza sufficiente ma non ancora esautivo di quello che è il vero patrimonio del verde. Quindi la prima cosa che mi sento di dire è certamente uno sforzo maggiore deve essere fatto a livello di conoscenza di quello che è il nostro patrimonio, la nostra dotazione di verde. La seconda cosa è già stata in qualche modo accennata ma credo che sia importante ribadirla è la necessità di svolgere un'attività di formazione e di preparazione dei nostri tecnici e dei nostri professionisti che tenga conto di quelle che sono le novità. Cioè è ovvio che le università e gli istituti tecnici di questi anni hanno formato le persone che poi in qualche modo si sono affacciate all'attività professionale seguendo una serie di criteri che oggi non sono più attuali o comunque hanno bisogno di essere rinnovati. Non è un caso che questi eventi, questi tre giorni, fanno parte di un'attività di formazione continua che tutti gli ordini collegi in qualche modo da qualche anno ormai devono mettere a sistema. Quindi io credo che uno dei percorsi che le nostre categorie professionali devono in qualche modo riuscire a ripercorrere e a mettere a disposizione di tutti sia certamente quello della formazione. Cioè la formazione dei nostri tecnici deve guardare al futuro, deve guardare alle cose che stiamo dicendo in questi giorni oggi e che comunque da tempo sono ormai teoricamente nel DNA di chi si occupa di ambiente e di territorio. Dico che teoricamente perché poi in realtà ci scontriamo con le questioni che in parte abbiamo sentito anche prima di un'economia che è ancora basata su principi e su valori che certamente non sono ancora riusciti in maniera completa a dare una validità a quello che è il settore di cui ci occupiamo. È necessaria un'inversione di tendenza, sono necessari alcuni ripensamenti anche dal punto di vista sociale e delle aspettative dei cittadini. Prima con qualcuno di voi parlavo e dicevo che a mio avviso c'è anche necessità di darsi una ridimensionata, cioè noi abbiamo bisogno di ridurre quello che sono le attività che ci stanno intorno proprio perché ormai il territorio non esiste più o comunque è molto occupato e utilizzato per scopi che non hanno una finalità di gestione intelligente del territorio e quindi credo che una delle cose che in qualche modo dobbiamo sostenere è certamente quella di una ridimensione di tutti quanti noi. Comunque vi lascio ad altre considerazioni. Diciamo che riprendo un attimo un tema tra i tanti che Benanti ha lanciato che è quello di una sostanziale filiera di qualità nella professione, una filiera di qualità che evidentemente parte dal progetto e arriva fino alla scala di chi poi si trova ad operare direttamente. Questo è molto importante perché il riconoscimento delle figure professionali che agiscono all'interno di questo comparto passa proprio attraverso poi un percorso di qualità. Seguo il programma e chiedo alla dottoressa Bosco che rappresenta il FAI, quindi una associazione che in realtà come altre iniziative internazionali molto importanti di tutela e di sviluppo di quelli che sono i patrimoni ma non voglio dire altro, chiedo a lei appunto di raccontarci un po' il ruolo del FAI da questo punto di vista. Allora, la prima cosa da dire è che tanto grazie per aver incluso anche noi in un dibattito di questo tipo che è molto più specialistico di quanto non sia il nostro campo ma dove un pochino di esperienza l'abbiamo anche acquisita in questi anni di vita, questi 40 anni di lavoro per il Paese e quindi grazie per aver pensato anche a noi. Molto mi ha colpito il taglio che è stato dato dai precedenti oratori nella prima parte dell'intervento soprattutto quello fatto dal dottor Sisti e dall'architetto Priri. Non si sente niente, quindi dice aumento la voce perché per la prima volta hanno parlato di questo tema con una forza per così dire di dati, di informazioni precise e puntuali che spesso manca e quindi ritengo che uno sforzo come è questo incontro di mettere insieme categorie che sono coinvolte nel settore, specialisti, periti, persone che ci seguono da casa che sono interessate a queste tematiche e fondazioni private come noi sia un primo passo per dare visibilità a un tema come è quello del verde e della funzione del verde nei nostri tempi storico, moderno che sia, poco importa perché effettivamente viviamo tempi, e tutti lo sappiamo, di enormi stravolgimenti di stili di vita, di comportamenti singoli, di attitudini che dobbiamo avere e di risorse che devono essere limitate perché le abbiamo sprecate allegramente negli ultimi anni e questo è un trend che deve assolutamente interrompersi. è fondamentale l'educazione, non solo delle istituzioni e degli ordini preposti a seguire questo tema che devono sicuramente snellire le pratiche, chiarirsi le idee, avere comunque delle metodologie di lavoro più facili perché altrimenti è il groviglio che abbiamo visto descrivere poco prima dei permessi che occorrono, delle difficoltà di agire, dell'incomprensione tra gli uffici non può che creare caos, quindi snellire quelle procedure, però altrettanto è importante, e lo dico da un osservatorio come quello del FAI che questo fa, altrettanto importante è l'educazione dei singoli, dei singoli individui, delle singole cittadine, dei singoli paesi, dei singoli operatori che lavorano nei giardini, nei parchi, nelle aree boschive, nei parchi naturali, nella gestione anche del quotidiano urbano, perché gli esempi che ha dato purtroppo il pubblico e le città negli ultimi anni, salvo rari casi, non sono stati stimolanti. E quindi cominciare a pensare la necessità di educare fin dall'infanzia al valore dell'ambiente inteso come verde di tutti noi, quindi non essendosi stata inventata ancora una macchina che produca aria, cominciare banalmente col dire che il verde che è attorno a noi, antico o moderno che sia, che ci circonda, che sta in terrazza, che sta nel parco, che sta nel giardino, ci serve banalmente per vivere, che non è poca cosa. E quindi questa distruzione distruzione di suolo, distruzione dei parchi, distruzione del verde che abbiamo ereditato dalla storia, distruzione e abbandono delle aree libere, come prima descrivevano, è suicidio. E questo è. E quindi cominciare a spiegare che non è solo un ornamento delle città, come è stato molto ben descritto prima, ma è un suicidio collettivo che va interrotto. Va interrotto prima di tutto quindi con un approccio a questo tema un po' più forte da quello che è stato fatto fino adesso nelle tematiche della scuola, ma insisto anche, per esempio, io non vedrei male una campagna nazionale in televisione che parli della necessità di vedere il verde come un aleato necessario per la sopravvivenza e non semplicemente per quello che si immagina oggi. E già questo, più di tante leggi, più di tante azioni, più di tanti vincoli, più di tante modifiche, più di tante altre cose, comincerebbe a creare nei singoli comportamenti diversi. Perché noi abbiamo sperimentato, facendo il lavoro che ha fatto il FAI in questi 40 anni, che ha restaurato un po' di tutto, da monumenti a aree paesaggistiche, aree costive, giardini storici e chi ne ha più una metà. Ultimamente si è anche cimentato in alcune azioni tramite il progetto Luoghi del Cuore di interventi diretti in aree di città. Ha sperimentato che il coinvolgimento delle persone a piccoli progetti comprensibili che lasciano dietro un modello, dopo, di gestione facile e piacevole, è quello che convince di più. Sto dicendo una banalità, ma è la verità. Quindi oltre a le grandi leggi, le grandi riforme che si devono per forza fare e i comportamenti giusti di introdurre grandi professionisti, ingegneri, architetti, agronomi, nella progettazione ante e non post di una trasformazione urbana di città o di campagna, ci vogliono anche un'educazione che manca, lo possiamo dire tranquillamente nel nostro paese, al comportamento singolo. E quindi io su questo vorrei soffermarmi, perché alle volte parliamo tutti, parliamo tanto e facciamo poi male dietro di noi. È fondamentale di pensare che quello che sta succedendo non può continuare a succedere perché, come dicevo prima, è suicidio. A un certo punto, prima o poi, ci troveremo in un punto di non ritorno. E quindi è la nostra generazione che, intercettando il mondo in cui si vive, intercettando i problemi climatici che abbiamo da affrontare, intercettando e conoscendo la distruzione in atto che è avvenuta dopo le due guerre sul nostro suolo in Italia, deve trovare il coraggio di dire basta, ci fermiamo qui perché noi non vogliamo privarci della qualità che ha avuto sempre questo paese, della bellezza che lo ha contraddistinto, dei saperi che ha generato e delle potenzialità che tutto questo può rappresentare per la nostra vita futura. Quindi noi siamo una fondazione con i suoi iscritti, i suoi associati che ci permettono di fare un passo alla volta e di portare a casa un risultato ogni anno, alle volte due, alle volte tre, come sarà quest'anno. Per cui il crescere come singoli, come individui, è quello che io vorrei proporre a tutti voi, soprattutto a quelli che ci stanno seguendo da casa. Non delegare come abbiamo fatto fin troppo, fino adesso, a partecipare. Grazie. Grazie, mi sembra un bellissimo richiamo e su questo si innesta, come dire, questo momento che è un momento davvero molto importante, quello di questi giorni in cui pare in corso è una sorta di rivoluzione nel guardare al tema della preziosa risorsa del verde e del paesaggio. Anche quando questo, appunto come abbiamo visto già nei vari discorsi, è prossimo all'architettura. Ma riprendo un altro tema di questo intervento che è appunto la qualità delle professioni che intervengono e chiamerei la dottoressa Monti ad intervenire, presidente dell'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, proprio su questo. Grazie, sono molto contenta di essere qui e questo momento di condivisione trasversale fra tutte quelle che sono le professioni che si occupano di progettazione, valorizzazione, conservazione attiva degli spazi verdi e degli spazi urbani, periurbani ed extraurbani, secondo me è fondamentale. E riprendendo quello che diceva Sofia Posco del FAI, proprio questo coinvolgimento sui vari strati, quindi da quello che sono il coinvolgimento dei cittadini a quello che sono il coinvolgimento fra quelle che sono le diverse istituzioni, diversi ordini che si occupano di queste tematiche, credo sia una novità per il nostro paese. E anche in questo caso, riprendendo la sollecitazione che faceva il moderatore all'inizio, perché siamo stati maestri nel mondo e non lo siamo più, beh perché un tempo appunto nella progettazione dei giardini, nella costruzione dei giardini, c'erano un quantitativo di maestranze talmente diversificate, talmente ricche, che poi man mano nel corso degli anni abbiamo perso. Come professionisti, IAP fa della trasversalità una delle sue fiori all'occhiello, è nata nel 1950, abbiamo al nostro interno agronomi, architetti, ingegneri e tutti coloro che hanno appunto paesaggisti, tutti coloro che hanno professionalità, competenza e formazione specifica nel tema del paesaggio. E questa consapevolezza della necessità di migliorare gli spazi delle città, delle campagne per migliorare la qualità della vita delle popolazioni è e deve essere il traino per il lavoro che andiamo a fare prossimamente. Si è stata opportunamente ripresa nelle battute iniziali la Convenzione Europea del Paesaggio, ecco, un documento straordinario in cui appunto il centro è il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni e quindi tutto ciò che diventa progetto di paesaggio è tutto ciò che migliora la qualità della vita delle popolazioni. C'è una necessità, secondo me, che è quella di non solo dialogare fra tecnici che si occupano di progettazione ma dialogare fra tutte quelle formazioni, istituzioni, enti e professioni che si occupano dello sviluppo di questo paese e quindi che vanno dalle sovraintendenze agli economisti, a tutti coloro che si occupano di turismo, a tutti coloro che si occupano di pianificazione perché in realtà se il paesaggio è in ogni luogo elemento fondamentale per la qualità della vita delle popolazioni deve interessare tutti indistintamente. E purtroppo spesso oggi si è parlato dei costi del verde ponendoli come una questione legata appunto a un costo e spesso non si fa riferimento al fatto che il verde per questo paese è una risorsa. Gli spazi aperti sono e devono essere una risorsa. Venivano ripresi all'inizio i temi della vivibilità piuttosto che sulla difficoltà fra il costruito e lo spazio, fra il costruito e il vuoto, ecco io non credo possiamo limitarci a dialogare fra costruire o non costruire ma dobbiamo pensare fra che cosa porta uno spazio aperto di qualità a una città, a un quartiere, a un cittadino rispetto a quello che non porta uno spazio verde di qualità a una città, a un quartiere, a un'azienda, a un cittadino. Quindi abbiamo dei costi diretti e dei costi indiretti ma abbiamo anche dei beni diretti, dei vantaggi diretti e dei vantaggi indiretti. Ecco io credo che il mettere il progetto di paesaggio, mettere il progetto degli spazi aperti al centro del dibattito culturale di questo paese sia veramente ormai cardine fondamentale. Non dimenticando il discorso della qualità, della qualità se ne è parlato prima, aveva fatto un riferimento Sisti per quello che riguarda le maestranze che si occupano anche della manutenzione del verde, qualità che ci deve essere nella progettazione, qualità che deve essere nella pianificazione degli spazi, e qualità che ci deve essere nella realizzazione delle opere, nella manutenzione delle opere. Su questo devo dire che fra tecnici è da tanto che dialoghiamo, è da tanto che si cerca di fare innovazione. Martedì prossimo il 24 di novembre al MIPA, al Ministero delle Politiche Agricole, verrà presentato proprio un enorme lavoro fatto in maniera trasversale da università, enti di ricerca, associazioni di professionisti, associazioni di produttori, sulla qualità di quelle che sono le opere del paesaggio. Mi sembra un passaggio importante e interessante. Il secondo punto è appunto il coinvolgimento, quindi si parlava prima di coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini, come AIAP per il coinvolgimento di tutti abbiamo, stiamo impegnandoci ormai da due anni e avremo un grande momento fondamentale credo appunto per questo ambito importante per lo sviluppo del paese che è un congresso mondiale di architettura del paesaggio che ci sarà in Italia quest'altro anno ad aprile, dal 20 al 22 d'aprile a Torino. È successo un'unica volta nella storia dell'architettura del paesaggio internazionale, AIAP fa parte di IFLA che è l'associazione internazionale degli architetti del paesaggio, solo una volta nel 1996 gli architetti del paesaggio di tutto il mondo si sono dati appuntamento in Italia, se lo ridanno a distanza di 20 anni a Torino nel 2016 deve essere motivo di dialogo e di confronto fra i colleghi e con i colleghi di tutto il mondo per tornare a rimettere il progetto di paesaggio al centro del dibattito politico, culturale, economico di questo paese così come era un tempo. Perché torniamo appunto a quel discorso iniziale, i giardini italiani erano meta di viaggi da tutto il mondo insieme alle bellezze architettoniche e paesaggistiche abbiamo ancora questo patrimonio trattato spesso malissimo rimettiamolo al centro del dibattito e quindi anche questo sia con chi è presente in sala e sia alle 1500 persone che sono in streaming a seguire questo dibattito credo che il dialogare tutti quanti insieme su questi temi sia importante. Grazie.